Ad un anno esatto dall'ultima visita, la Presidente della Camera Laura Boldrini torna a Scampia per incontrare i cittadini e le associazioni del territorio. Una giornata intera dedicata a Napoli che prosegue nel pomeriggio ai quartieri spagnoli per verificare gli avanzamenti nell'azione di recupero e di rilancio delle aree più difficili della città. Accompagnata dal Sindaco Luigi De Magistris, la Presidente della Camera ha fatto visita ad una famiglia della vela gialla e constatato le condizioni di abbandono e degrado in cui vivono da anni tantissime persone. Il trasferimento nei nuovi alloggi di Via Gobetti e Via Labriola, proprio di fronte a quelle vele fatiscenti, ha preso il via nei mesi scorsi e interesserà gradualmente gli altri nuclei familiari aventi diritto. Il messaggio è che se esiste la camorra esiste anche chi lotta contro la camorra e lo fa rimboccandosi le mani, che lo fa trovando le soluzioni ai problemi. La mia visita qui vuole essere di valorizzazione a tutti quei cittadini che invece qui promuovono la legalità e la promuovono attraverso la soluzione dei problemi delle persone. L'unico antidoto all'illegalità è riuscire a dare le soluzioni ai problemi delle persone, quindi trasferire le persone da luoghi degradati a case dignitose e cercare di dare loro una possibilità, una prospettiva di vita, penso che sia la risposta migliore all'illegalità e a quello che ci sta dietro. La presenza della Presidente della Camera è molto importante perché ci deve garantire con la sua autorevolezza la tempistica per l'abbattimento delle vele nel 2017, nella prima parte del 2017. Il completamento delle alloggi è in via di definizione, oggi anche viene pubblicato un ulteriore bando per altri 50 alloggi, quindi noi abbiamo rispettato il cronoprogramma e abbiamo lavorato molto bene con gli abitanti delle vele che sono qui rappresentati come li potete vedere. Adesso c'è bisogno che il patto per Napoli voli, che il governo che si è appena insediato rispetti gli impegni e che il Presidente della Camera che ha dimostrato sensibilità istituzionale e umana su questi temi stia vicino alla città di Napoli. La mattinata della Boldrinia Scampia è proseguita con la visita ad una delle famiglie trasferite di recente nelle nuove abitazioni e si è conclusa con l'incontro nella sede del comitato alla presenza degli abitanti delle vele. La maggioranza degli abitanti di questo quartiere non solo ha voglia di riscatto ma ha dimostrato di riprendersi il territorio. Se vediamo il profluvio di associazioni e comitati e movimenti che ci sono su questo territorio, significa che qua c'è una centralità umana molto forte. Infatti l'orgoglio oggi del sindaco di Napoli è quello di essere il sindaco di tutta Napoli e se Napoli si sta riscattando è perché tutti i quartieri di Napoli a cominciare da quelli periferici hanno dato una grande prova democratica sia nelle elezioni comunali contro un accerchiamento molto forte e sia anche nei confronti della difesa della Costituzione. Noi vogliamo definitivamente cancellare quell'immagine che si è fatta in questi anni Napoli, Scampia, Camorra, Gomorra. La vogliamo ribaltare completamente. Qua verrà nell'abbattimento delle vele la sede della città metropolitana di Napoli, non più periferia ma centro dell'area metropolitana più grande d'Europa che è l'area metropolitana di Napoli. Grazie. Grazie. Grazie.